A Misurata, in Libia, le strade sono state distrutte da tre mesi di guerra. La gente comune paga il prezzo dei combattimenti casa per casa, il fuoco dei cecchini e il bombardamento indiscriminato di aree residenziali. Il numero totale delle vittime civili è ancora sconosciuto. All'ospedale Al-Hikma di Misurata, Malak al-Shamy, 5 anni, ha in mano il computer del padre e guarda le foto di suo fratello e sua sorella. Tre settimane fa, mentre dormivano, un razzo grad ha sfondato il tetto della loro casa. La piccola Malak ha perso la gamba destra durante l'esplosione. Suo fratello Mohamed è di tre anni e la sorellina Rodeina, di 12 mesi, sono stati entrambi uccisi. Appena è scoppiata la guerra, l'UNICEF ha avviato una missione di valutazione, individuando partner locali con cui lavorare, soprattutto per fornire scorte di vaccini. L'UNICEF era stato infatti preavvertito della grave carenza di scorte mediche e dell'urgente necessità di vaccinare i bambini. Con una prima missione sono state inviate 41.500 dosi di diversi vaccini, tra cui 15.000 dosi di antipolio. Gli operatori UNICEF hanno visitato anche una scuola dove 25 famiglie erano barricate da settimane, dopo che le loro case erano state distrutte. In una delle aule della scuola c'è un modellino fatto dai bambini che raffigura l'orrore che vedono dalle finestre, i carri armati, i cecchini, i corpi senza vita nelle strade. con continuo di scuola, i scuola, i scuola, i scuola. Quindi, è stato molto difficile per i bambini. Alcuni bambini stavano scurire, alcuni bambini hanno visto i loro famiglie, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini. Con lo che ho visto dalla discussione, credo che i bambini in Misrata hanno avuto più violenza di bambini in Banghazi. I bambini di Misrata vogliono tornare a giocare all'aperto, ne hanno il diritto. I genitori però sono preoccupati per le bombe a grappolo e le mine anti-uomo inesplose che possono nascondersi sotto la sabbia e le macerie. Per questo abbiamo cominciato a diffondere l'informazione su questi pericoli attraverso messaggi radio, affinché i bambini capiscano che non bisogna raccogliere questi micidiali ordigni. Lo sminamento è una priorità. Ma per le centinaia di vittime della guerra il ritorno alla normalità sarà difficile, forse impossibile.